L'esperienza dell'incontro con le vittime ha commosso tutti noi e questo ascolto delle vittime è una parte essenziale della pastorale del Vescovo ma anche dà la giusta motivazione perché la lotta contro questo male sia proprio efficace. Abbiamo avuto in questo summit la presenza di tre donne, era la prima volta che questo accadeva, hanno dato sicuramente uno stile diverso anche al vertice, meno clericale sicuramente. Lei ha sottolineato la positività di questa presenza, perché? È un'esperienza nuova ma anche fresca, è un'esperienza di condivisione di una sapienza che la Chiesa ha bisogno di godere di più. Perché come ha detto il Santo Padre la Chiesa è madre, è donna, è sposa, il genio femminile è essenziale per la vita della Chiesa, non c'è progresso, non ci sono soluzioni senza il contributo e la presenza della donna. Una delle vittime ha detto chiaramente che nel momento in cui è stata ascoltata dalla Chiesa avrebbe preferito una presenza femminile per raccontare l'orrore dell'abuso. Quali sarebbero secondo lei i ruoli chiave in cui questa presenza non solo è auspicabile ma è necessaria? Senz'altro il primo contatto con le vittime, se sono di sesso femminile, sarebbe bene che siano accompagnati da una donna, di una donna competente, esperta. Molti tribunali usano dei psicologi specializzati, secondo me questa è una cosa che noi leader della Chiesa dobbiamo proprio fare ed essere molto dedicati a questo incontro con le donne che rispetta la loro femminilità e la loro dignità. Nell'ascolto delle tante testimonianze e vittime che in questi giorni si sono radunate in Vaticano si percepisce ancora molta rabbia e anche grande insoddisfazione. Secondo lei questo vertice in qualche modo ha risposto a un'esigenza di giustizia che era nel loro cuori e in che maniera, in che misura? L'incontro con le vittime non è mai facile, anche perché è proprio l'esperienza dell'ospedale da campo. Non ci sono risposte immediate al grido delle vittime, perché ogni ferita è una tragedia in sé, ma l'ascolto è essenziale, la compassione, ma anche la volontà di fare giustizia. Queste sono risposte che non possono mancare. Lei si sentirebbe soddisfatto di questo vertice se, puntini puntini, che cosa dovrebbe venire? Se noi ci convertiamo davvero, ma è una cosa che viene dal Signore e dalla nostra buona volontà.